signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale ci stiamo avvicinando al periodo delle feste quindi molti di voi stanno pensando di comprare qualche nuovo manuale da regalarsi o da regalare ai propri amici con la scusa del natale è giunto quindi il momento di rovinarvi la testa questo video nasce da una discussione che ho avuto con manuel di autarchica gdr una delle persone della community del canale e in realtà essendo qualcosa di estremamente interessante ho deciso che probabilmente necessitava un video per portare l'argomento al pubblico questo video appaierà qui nella serie per i giocatori perché quella di più ampio respiro e che in realtà parla a tutti ma non è qualcosa che riguarda solo i giocatori di ruolo anche chi master e basta o anche chi fa sia il giocatore che master diciamo un argomento estremamente trasversale immagino che il titolo vi abbia incuriosito quindi basta preamboli andiamo a vedere cos'è la sunk cost fallacy e perché la sua esistenza rovinerà per sempre il vostro divertimento cominciamo subito a definire cosa sia la sunk cost fallacy perché in realtà non è tanto un termine dell'ambito di giochi di ruolo ma è qualcosa che viene dalle teorie economiche potremmo tradurlo come la fallaccia dei soldi già spesi o la fallaccia dell'investimento già fatto per quanto abbia avuto origine dallo studio dell'economia in realtà è qualcosa che riguarda ogni aspetto in realtà della vita quotidiana gioco di ruolo compreso per spiegarla in parole povere possiamo dire che siamo all'interno della sunk cost fallacy quando il fatto di aver già investito in qualcosa non necessariamente un investimento di soldi ma anche un investimento di tempo di fatica comunque quando abbiamo già perso del tempo dietro qualcosa ci spinge a continuare a fare quella cosa nonostante razionalmente questa non sarebbe la scelta migliore da fare anzi facciamo un esempio concreto diciamo che voi ci tenete particolarmente andare non lo so a una fiera o un comic con e quindi per evitare poi di non trovare posto già mesi prima avete comprato i biglietti e avete progettato il viaggio insieme ai vostri amici per andare a vedere un ospite d'eccezione che sarà presente man mano che la data si avvicina però prima viene annunciato che l'ospite non ci sarà più per via di problemi poi gli amico con cui avreste dovuto condividere le spese del viaggio per altri problemi suoi non può più venire e magari anche le previsioni meteo per quel giorno danno pioggia comunque cattivo tempo quindi vorrà dire che tutti saranno ammassati uno con l'altro dentro i capannoni e sarà difficilissimo girare per la fiera ora la vostra idea iniziale era quella di passarsi una bella giornata con il proprio amico e andare a incontrare il personaggio famoso e nella pratica quello che otterrete sarà dovervi fare un viaggio lunghissimo da solo spendendo più soldi di quello che aspettavate per poi finire stipato in un capannone a guardare roba che in realtà vi interessa marginalmente perché voi lì erano andatevati peraltro evidentemente il vostro piano iniziale è fallito però voi avete già speso i soldi del biglietto e magari avete anche speso soldi e tempo per crearvi un cosplay che volevate utilizzare lì magari sono usciti dei manuali volevate comprarli ma poi avete detto no magari li compro direttamente alla fiera così magari me li faccio autografare alla fine per evitare che i soldi spesi le scelte fatte si rivelano del tutto inutili voi alla fiera ci andate lo stesso anche se alla fine sarà un'esperienza molto peggiore di quella che voi inizialmente avete preventivato e per cui avete effettivamente speso quei soldi e quel tempo ecco questo è esattamente il comportamento descritto dalla sun cost fallacy come ho detto situazioni del genere capitano continuamente tutti i giorni dal prepararvi il pranzo con della roba che non vi piace ma perché l'avete presa quando era in sconto al evitare di cambiare lavoro o evitare di cambiare relazioni solo perché lo fate già da tanto tempo noi in questo video però ovviamente andremo a concentrarvi su quali sono gli aspetti che riguardano il gioco di ruolo cominciamo proprio dai puri motivi economici quelli che poi sono i più vicini all'origine della fallacea nel mondo del gioco di ruolo noi siamo abituati a vedere costantemente l'arrivo in nuove pubblicazioni di origine più disparata dai micromanuali di produzione indipendente a dei tomi da centinaia di pagine che sono l'equivalente dei tripla del mondo del gioco di ruolo da tavolo prodotti dalle grandi case di pubblicazione ogni volta che esce un nuovo manuale noi abbiamo la tentazione di prenderlo anche solo per leggerlo per curiosità e vedere se dentro c'è magari una regola che potremmo rubare per usare da qualche parte in questo caso la fallacia si manifesta in due modi diversi antiteciti tra di loro in persone diverse ci sono quelli che effettivamente comprano o vorrebbero comprare ogni singolo manuale che per loro abbia anche solo un minimo di interesse ora ovviamente di per sé questo non è un comportamento intrinsecamente sbagliato più manuali si hanno più giochi si provano maggiori sono le possibilità di capire cosa esattamente ci piace o di magari trovare un modo per gestire delle situazioni che si possa aggiungere alla scatola degli attrezzi del master e comunque portare un miglioramento al nostro stile di gioco questo però ha senso solo se il nuovo regolamento il nuovo manuale porta un effettivo miglioramento al tavolo e a me è capitato molto spesso di parlare con master o membri di gruppi di gioco che stessero portando avanti magari da mesi una campagna a un nuovo gioco che effettivamente non li stava prendendo che non li stava interessando particolarmente ma anche se dopo poche sessioni si hanno resi conto che quella non era qualcosa che faceva per loro sono andati avanti semplicemente perché o abbiamo comprato il manuale tutta roba collegata ci abbiamo speso un sacco di soldi adesso non è che possiamo scartare il tutto senza averci fatto neanche una campagna altrettanto diffusa e ideologicamente opposta invece è la tendenza di alcuni master alcuni giocatori di concentrarsi su uno specifico gioco come magari apprezzano particolarmente ma a discapito di qualsiasi altro rifiutandosi di comprare qualunque cosa non sia parte del il singolo gioco a cui loro giocano per molti manuali per molte collane di manuali pensate solo a dungeon on sandragon o a pathfinder prendere ogni singolo manuale all'interno di una stessa serie potrebbe voler dire un impegno di centinaia e centinaia di euro e quindi sì avere la tendenza a usare quello che si è comprato quello che si è speso è logico però non lo è quello di escludere qualsiasi altra cosa solo per il fatto che ah ma con tutto quello che ci abbiamo speso noi qui ci abbiamo materiale per andare avanti per anni e anni non ha senso provare qualunque altra cosa tanto per il resto della nostra vita potremmo giocare a questo sicuramente ci possono essere giochi che si apprezzano più di altri e non ha senso scartare un manuale soltanto perché è vecchio e ne è uscito uno nuovo considerate che tra i grandi movimenti del gioco di ruolo c'è quello sr che fondamentalmente si basa sul continuare a creare iterazioni sui primissimi manuali di dungeon on sandragon quindi di per sé la posizione è accettabile quello che non è accettabile è scartare qualunque cosa per partito preso solo perché oramai si possiedono già in manuali di altro quindi quello è l'unico gioco di ruolo che si giocherà nella propria vita il fatto che voi vi divertiate con un gioco sicuramente è possibile ma non dimostra che non vi divertirete di più o non vi divertirete comunque altrettanto giocando anche ad altro se l'investimento economico è quello più palese da descrivere molto spesso il sun cost che porta poi la gente a prendere decisioni razionali non ha a vedere con il denaro l'esempio più classico è quello del giocatore che dopo magari mesi o anni di campagna continua a portare al tavolo un personaggio di cui magari se anche stufato e su cui comunque non ha più nulla da dire ma che se cambiasse vorrebbe dire che tutto il tempo i mesi e gli anni che l'ha giocato insieme agli altri non avrebbe significato nulla ovviamente questa cosa non ha senso se un personaggio non ha più niente da dire o se si è annoiati di giocarlo la cosa più razionale da fare è semplicemente smettere di portare al tavolo quel personaggio il personaggio potrebbe essere stato anche interessantissimo nel passato adesso non lo è più e il fatto che adesso arrivi un nuovo personaggio non vuol dire che retroattivamente tutto quello fatto al vecchio personaggio non abbia più senso o non sia più divertente questo si applica anche al ragionamento fatto da molti master che magari hanno passato mesi se non anni a scrivere una loro ambientazione magari modificando anche un regolamento per poterlo rendere proprio specifico per quello che hanno loro in mente e poi una volta che hanno portato l'ambientazione al tavolo si rendono conto che semplicemente per i giocatori non è particolarmente interessante o comunque che la grande idea che loro avevano in mente resa nella pratica non è un'idea poi così grande anche in questo caso la cosa migliore da fare sarebbe semplicemente lasciar perdere tutto e portare qualcos'altro al tavolo quell'ambientazione potrà essere poi ripresentata magari in seguito a un altro tavolo che abbia gusti diversi o comunque rimaneggiata per correggere gli errori che evidentemente sono stati fatti molti master però in realtà si incaponiscono a portare al tavolo quell'ambientazione perché loro l'hanno scritta quindi adesso i giocatori devono giocarci perché sennò vorrebbe dire che tutto il tempo che hanno passato a scriverla è stato tempo sprecato un discorso del tutto analogo lo si può poi fare per gli stessi membri del tavolo ho visto più di una persona continuare a giocare con lo stesso gruppo di gioco che in realtà non apprezza particolarmente per i più disparati motivi o che comunque porta avanti un tipo di gioco a cui lui non è interessato semplicemente perché oramai è molto tempo che giocano quelle persone e gli sembrerebbe intrinsecamente sbagliato andarsene qui normalmente le motivazioni sono le più disparate dal ah ma sono i miei amici e non posso lasciarli al ah sì ma potrei anche andarmene ma chi mi garantisce che quello che troverei sarebbe meglio di questo anche in questo caso sicuramente voler stare con persone che già si conoscono è comprensibile ma il fatto che noi non potete giocare se non con i vostri amici di per sé è una cosa che non ha alcun senso potete rimanere amici con delle persone anche se non ci giocate di ruolo assieme ora io non conosco le vostre vite ma credo comunque che la maggior parte delle persone che frequenteate comunque non giochino di ruolo o almeno non lo facciano con voi ed è anche vero che trovarsi in un brutto gruppo di gioco e andarsene non vuol dire trovare necessariamente un gruppo migliore ma anche in quel caso non sarebbe un problema come se se ne andati dal primo gruppo se ne si può andare dal secondo anche al terzo dal quarto magari ci metterete mesi per trovare un gruppo di gioco che vi soddisfi ma dato che poi una volta avete trovato il gruppo che giocano alla maniera che piace a voi con quel gruppo poi in mente potrete davvero andare avanti a divertirvi per anni è sicuramente un investimento che vale questo attaccamento al gruppo di gioco immutabile poi si manifesta anche in un altro modo cioè quello che il gruppo di per sé va bene ma al suo interno ha un elemento che è palesemente disturbante o comunque sgradito a tutti gli altri e il gruppo continua a tenersi il giocatore fastidioso al suo interno anche in questo caso perché ah ma è un nostro amico non possiamo mandarlo via o ah ma sì se lo mandiamo via poi però saremo troppo pochi non possiamo andare avanti a giocare e poi magari ne troviamo uno che è peggio ora al di là del fatto che viviamo nell'epoca della comunicazione globale quindi contattare nuovi giocatori e trovare nuovi elementi per il proprio gruppo di gioco può essere qualcosa che richiede qualche settimana in realtà è più probabile qualche giorno l'idea di mandare via una persona che si comporta male ah ma non possiamo farlo perché è un nostro amico se quella persona si comporta male e voi non volete passare il vostro tempo con quella persona quella persona già non è un vostro amico perché voi non considerate amici le persone con cui non volete passare il tempo ma il che vada è un conoscente e lo state già trattando più che altro come un collega di lavoro ora siamo arrivati al momento del video in cui io dovrei guardare in camera e darvi una soluzione semplice e ovvia al problema mi dispiace non succederà la sun cost fallacy è qualcosa di intrinseco alla natura umana l'ho detto all'inizio probabilmente ci avrete a che fare tutti i giorni e tutte le volte che avete cominciato a fare qualcosa sarete spinti a continuare a farla solo perché ormai l'avete cominciata questo video non serve a darvi una soluzione al problema perché non esiste serve però a rendervi partecipi del fatto che il problema esiste dargli un nome e quindi spingervi a riflettere quando in futuro magari anche in questo momento vi troverete di fronte a dover fare appunto la scelta se continuare a fare qualcosa o se smettere ricominciare da capo siete sicuri che dovete proprio comprare ogni manuale di quel gioco siete sicuri che effettivamente la campagna la state portando avanti non dovrebbe essere terminata siete sicuri che volete proprio continuare a giocare con quella gente questo ovviamente sono tutte domande a cui dovreste rispondere voi stessi io non so quali sia la vostra condizione sono una voce disincarnata che parla su internet quindi non posso saperlo però nel caso vi siate trovati in questa condizione l'avete risolta piuttosto scrivete qui sotto nei commenti come avete fatto a rendervene conto e poi come avete risolto o magari se non sapete come risolvere qualcuno potrà darvi una mano per questo video invece è tutto come sempre se avete domande dubbio perplessità scrivete anche quelle nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condivideteli occhio da crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord a gruppo di telegram dove metto io manualmente i link ai video quando escono e dove trovate il resto della community del mastercae io sono il mastercae e noi ci vediamo nel prossimo video